La costazione di via Gramscia a Figline è stata questa mattina teatro di controlli e di ispezioni da parte di AER. Scopo informare i cittadini sul corretto conferimento nei cassonetti dopo i fenomeni di abbandono di inciviltà verificatisi nei giorni scorsi. Abbiamo fatto questa iniziativa in collaborazione con l'amministrazione comunale, questa iniziativa di informativa proprio sulla raccolta differenziata nelle isole ecologiche con problemi come questa. Diciamo che abbiamo notato che c'è un'utenza, soprattutto quella anziana, che è molto attenta alla raccolta differenziata e purtroppo ancora i giovani devono imparare, più che altro si devono interessare. In merito al posizionamento dell'ecostazione, l'assessore Tille ha affermato che la collocazione attuale è frutto di una sperimentazione, ma è molto probabile che dopo gli ultimi episodi i cassonetti verranno di nuovo spostati. La costazione di via Grambi ci sono anni che viene spostata qualche metro più qua, qualche metro più là, girata da una parte e girata dall'altra, segno che una soluzione perfetta per così dire non c'è. Abbiamo provato appunto questa soluzione sul richiesta di questi cittadini, di gran parte dei cittadini del centro storico, che comunque non è che la vedono solo di passaggio e quindi ne fanno un problema di decoro o gusto nei confronti delle mura che capisco essere un tema molto importante, ne fanno un discorso appunto di utilizzo perché tutti i giorni vengono qui a conferire i rifiuti. Come avevamo già preannunciato anche a loro stessi, questa sarebbe stata una prova per dimostrare che il problema dell'abbandono non si sarebbe risolto. Ne abbiamo evidenza tutti i giorni anche con le denunce giuste dei cittadini. Dico fin da subito che evidentemente la prossima prova sarà quella di allontanare, di togliere queste costazioni da questo parcheggio e di allontanarla a questo punto da qui, andando oltre la strada regionale 69, magari nella zona della stazione o nella zona là delle poste in piazza salvo d'acquisto. È una cosa che accontenterà una parte, cioè chi di passaggio appunto vedeva e vede queste costazioni sotto le mura, però sicuramente la peggiorerà per i cittadini spesso anziani che devono a piedi andare a conferire i rifiuti e in questo caso dovranno attraversare la strada regionale 69. Quindi proveremo anche questa soluzione e chiedo a tutti ovviamente di capire che se sono anni che questa costazione gira per questa zona è perché ancora una soluzione che vada bene a tutti e che non scontenti nessuno non c'è e quindi andiamo avanti con le sperimentazioni.